Buonasera a tutti, ben trovati! No, voi vi chiederete perché? Perché è un omaggio a un nostro amico a cui vogliamo tanto bene, con cui vogliamo collegarci per salutarlo. Ma puoi scendere dalla festa? No, non voglio, voglio stare qua, me la godo sino alla fine. Ecco, è stata la prima su cui sono salito, era di mio papà, una uguale a questa. Ecco, e quindi rimango qua, poi ciascuno ha la Vespa della propria epoca, lui ha la sua, compie 20 anni perché era il 27 maggio del 99 quando in radio e nei negozi usciva 50 special, 20 anni. Cesare Cremonini, ciao Cesare! Ciao, ciao Luciana! Hai visto? Eccola lì! È quella! Eccola Vespa! Eccola qua! Ma hai visto che sorpresa? Meno male che dovevamo fare il tragetto. È proprio lei, è proprio lei. Ma come mai? È perfetta! Ah, è perfetta perché la mia mamma me l'ha ristrutturata poche settimane fa. La tua mamma? Devi parlare subito perché abbiamo quattro secondi. Ha chiamato uno dei suoi sciapinari, sai cosa sono gli sciapinari? No, chi sono? Gli sciapinari sono quelli che a Bologna fanno i sciapini, i tuttofare. Ho capito, ho capito. E mia mamma l'ha portata a ristrutturare e poi me l'ha regalata, questa è proprio la Vespa di 50 special. Beh ragazzi, ma che meraviglia è! È bella! La tieni in salotto, giustamente. Schiappinario! La tieni in salotto, sì, sembra un po' un garage casa mia per questo motivo. Senti, 20, 20 anni fa la canzone. Ma di già? Eh, poi hai annunciato il tour, 20, 20, un grande tour negli stadi che si chiama Cremonini 2C 2C Stadi. Tornerai nel 2020 a esibirti negli stadi. C2C? Cremonini 2C Stadi, sì, vorrei tanto risentirmi i ventenne, capito? Questo 20 doppio, no? Che simboleggia il 2020, che per me è un po' anche... L'anno che da piccolo pensavo fosse il futuro, no? Nel 2020 chissà cosa succederebbe, pensavo cosa succederà, magari voleranno le macchine, voleranno le Vespe. Invece realizzo il mio più grande sogno, cioè riuscire ad andare in tour negli stadi in tutta Italia. Quindi abbiamo annunciato da poco le prime sei date, ma molto presto, cioè domenica 26, proprio nella coincidenza del mio ventennale di carriera, annuncerò anche le ultime grandi notizie. Allora, noi ti aspettiamo qua, io non vedo l'ora, perché le canzoni di Cremonini si possono cantare. È vero. Sono rare ormai le canzoni che possono cantare. Cesare, no, dunque ci vediamo domenica prossima per raccontarci tutto. Intanto vedevamo la locandina 2020 o 2020, eccolo qua, tra l'altro 20 e 20 fa? 40. Bravissima. Che sono gli anni che ha lui. Che compirà il 2020. 40 come la mia età, maledizione. Ma ragazzi, ma tutto tu... Ma lascia stare, noi ne abbiamo 54, guarda che... Io ne ho 54, lei dice di aver 54. Io anche, perché siamo uguali. Va bene. Siamo coscritti. Siamo coscritti, senti Cesare, allora noi ti aspettiamo assolutamente domenica prossima qui da noi. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Tu ci sei domenica prossima? Cioè, ti trovo insomma. Ma non hai detto. C'è Luciana, guarda. Guarda, ma io anche dopo sopra. Non mi far venire... Non hai detto, però tu cerca di venire. Poi al limite facciamo un rinfresco o qualcosa. Va bene, io prendo impegno e poi... Va bene. Allora... A presto, ciao Cesare, a domenica prossima. 20-20, Cesare Cremolini. Ciao. Grazie Fabio, grazie Luciana. A domenica prossima. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Va bene, va bene. Grazie.